Io credo che amici nelle Marche, avendo conosciuto la nostra regione per il nostro lavoro che tutti i giorni siamo sul fronte, credo che una struttura come l'allevamento di Lorenza, qui a San Gineso, città terremotata, Lorenza un po' è anche terremotata, eh Lorenza? Sì, sì, case tutti inagibili, certo. Però c'è una cosa in più qui, ci sono i tuoi quanti numericamente cagnolini meravigliosi? Ma circa 200, basta qui, meglio non dirne di più. Io credo che però questi fanno la terapia, la pet therapy, anche per il terremoto. Sicuramente, altrimenti un carampicato, sì, perché con due metri di neve, con tutte le difficoltà, chiaramente... Stessa strada non è facile, eh? No, adesso è aggiustata, altrimenti veniva su a piedi la gente. Sì? Sì, per questo. Quindi io credo, Lorenza, che la cosa più importante qui è parlare dei tuoi cagnolini, che sono di che razza prima di tutto? C'è Barboncini, Chihuahua, Spizzi di Pomerania, Cavalier King, Jack Russell e Maltese. Ecco, adesso stranamente si sono abituati, perché secondo te? Perché quando arriva la gente, loro abituati nella massima calma. E allora, come arriva qualcuno, si agita tutti, poi riprende la normalità. Certo, infatti questa è una cosa incredibile. Cioè, quando siamo arrivati abbagliavano tutti in coro, come fosse proprio una protesta contro le telecamere di TV Centro Marche, dei protagonisti, il nostro format è uno dei più seguiti della regione, che ovviamente grazie ai nostri collaboratori tecnici, operatori, regia, ci mettiamo l'anima e il cuore. E questo non sarà un servizio qualsiasi per noi, sarà qualcosa che dovrà far capire alla regione che noi marchigiani siamo un popolo speciale, che anche nei momenti peggiori sappiamo reagire, anche attraverso l'aiuto di questi meravigliosi e splendidi cagnolini che vedete nelle immagini, che sono di quelle razze, ma che comunque potete, tu li vendi ovviamente, e quindi chiunque li vuoi acquistare lo può fare venendo qui da te, in questo splendido giardino, scegliendone uno per uno. Voglio questo, scegli quello. No, beh, questi sono, diciamo, le fattrici, quelli che in vendita sono i cuccioli, che c'è una maternità, certo, certo, ma ora 50, ne sono pochi, però anche 100, tutte fattrici, quelle che vedi, i cuccioli, sta dentro, c'è una maternità riscaldata, è apposta, è come quella dei bambini, è l'incubatrice, l'ambra dei caldi, eccetera. Pure più seguiti. Sì, più seguiti, perché un bambino fa 5 ghili, un cucciolo fa un etto. Io credo che qui, Lorenza, questa passione è una cosa antica per te o è nata recentemente? No, 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 io questo lo faccio con la morte di un cane. A cuore un cane nasce una grande passione. Come si chiamava il cane? Mita, come è Mita. Quanto è successo questo? Questo è successo 25 anni fa. Beh, io credo che chi ama i cani sia persone anche loro... E ne voglio talmente tanti che non voglio più soffrire così. Una reazione. Prima 90 abbandonati, dopo è morta pure una mia amica con tumore a 30 anni, non ha lasciato 50 di razza e da lì ho iniziato. Però il nostro servizio non deve essere un servizio sul dolore, ma sulla gioia. Ah, ecco. Sulla gioia... Non serve, non è un servizio di cronaca il nostro, è un servizio di gioia. Cioè, chi vede le immagini a casa con queste bellissime fattrici, piccoline, graziose e adesso anche silenziose, le ringraziamo, facciamo qualche cronaca di questi, li conosci tutti noi? Sì, Cesare, Margot, Catina e... Sfrutti? Sì, sì, è un capogruppo, ma tutti c'è un nome. Ci sono bastardini? Anche. Ci sono? Abbandonati, sì. Ma col nome, però. Col nome, certo. Come tutti, Camilla, adesso lei è il capogruppo. Camilla? Capogruppo, Camilla. Sì, sì. No, ma dopo li inquadriamo tutti, grazie anche alla tua collaborazione. Sì, sì, tutti ha un nome comunque. Bene. Quindi, poi sono trattati qui, da quello che vedo, sono tenuti in maniera impeccabile e c'hai anche una collaboratrice, ho visto, Rumena di Tulcia. C'è un ragazzo peruviano, si chiama Manuel. Anche il peruviano? Sì. Benissimo, i peruviani ce li abbiamo anche noi, sono bravi. Sì, molto, 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 e c'ha una grossa passione. Sì. Quindi, vogliamo dire che Lorenza sostanzialmente è una donna che si è messa a disposizione della passione dei cani e ne ha fatto una ragione di vita di questa attività. Sì, è vero, ho salvificato la mia vita, sì. È vero, io non esco mai, mai, mai. Nemmeno per la spesa. C'è qualcuno che la fa per te, spero. Certo, normale. Bene, io penso che Lorenza Bucciarelli, che potete chiamare subito anche mentre siamo in onda. Guardate che bella immagine del cagnolino Margot che si sta appoggiando sulla nostra operatrice con una gentilezza ed educazione che praticamente è con grande bonton. Bambina, vieni. Che tu ha questa giochina? Questa ha tre anni. Eh? Tre anni. Che si chiama? Margot. Vero, Marghi? Sì, amore della mamma. Praticamente c'è un rapporto umano tra te e i tuoi cani. Sì, sì. Dove loro ti vogliono bene... È reciproco, no? Molto, ve lo vedo da come ti si avvicinano. Sì. E ti cercano come fossi la grande mamma. Sì, 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 sì. Se non ci sono io è terribilmente... Diciamo che c'era una grande attrice che ci ha lasciato, Brigitte Bardot, che anche lei mi risulta che viveva con tantissimi cani. Però lei l'ha fatto più la vecchia. D'anziana, sì. D'anziana, diciamo. D'anziana, l'attrice, ovvio. Io invece l'ho fatto un po'... Da giovane. Ho iniziato, avevo 37 anni. Eri giovanissima. D'anziana, l'attrice, ovvio.